Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Oggi faccio un nuovo video e oggi in particolare facciamo un video del giorno di St. Patrick, o San Patrizio forse in italiano, ma in inglese St. Patrick's Day. Sta per essere il giorno di St. Patrick qui nel mondo, ovviamente, ma specialmente qui nei Stati Uniti, perché qui nei Stati Uniti questo giorno è davvero un... è proprio una festività. Essenzialmente gli americani per la maggior parte adorano questo giorno, questa festività. Detto ciò, in questo video parlo di questo giorno, di questa festività e come noi, come noi gli americani, come noi festeggiamo questo giorno. Comunque, l'origine di questa festività viene da Irlanda centinaia di anni fa, all'inizio del diciassettesimo secolo. E per tanto tempo questa festività è stata solo una festività religiosa, sostanzialmente tipo un giorno sun, o holiday, diciamo in inglese. Però in questi giorni, decisamente qui nei Stati Uniti, questo giorno è una festività per le feste, per il bere dell'alcol e le cose del genere. La celebrazione è iniziata qui nel diciotto... nel diciotesimo secolo, qui nei Stati Uniti. Comunque non è stato fino al ventesimo secolo per questa festività, per questa festività di diventare una festività più grande e più party, diciamo, più festoso. Non so se è un aggettivo, se sì è un aggettivo, ma ho appena creato. Comunque sì, qui nei Stati Uniti questo giorno è un giorno per festeggiare, per celebrare gli irlandesi e anche gli irlandoamericani, gli Irish Americans. Ma ormai questo giorno è celebrato e festeggiato da tutti, da tutti, da tutti, sensamente, tutte le persone festeggiano questo giorno per qualche ragione. Probabilmente perché gli americani adorano festeggiare e bere tantissimo e sensibilmente consumere tutte le cose in modo estravagante, in modo gigantesco. E durante la mia ricerca per questo video in realtà ho imparato tante cose. E' molto interessante perché adesso, questi giorni in Irlanda, questo giorno è ben festeggiato come gli americani. Comunque ho imparato che non è stato fino all'evento della TV che questo giorno è diventato una propria festività di festeggiare, di bere, eccetera, in Irlanda. Perché gli irlandesi hanno visto le cose che noi, gli americani, stavamo facendo. E poi ovviamente la cultura di questo giorno, le feste, sono iniziate lì, in Irlanda. Per quanto ne so, questo giorno è festeggiato tantissimo in Italia, ma forse in futuro questo giorno, questa festività, diventerà più grande? Oh, non lo so, vedremo, lo suppongo. Comunque parlando di più delle tradizioni che abbiamo qui nei Stati Uniti, ovviamente forse la tradizione più famosa, diciamo, è che per questo giorno tutte le persone indossano i vestiti verdi, come indosso io. Ma non solo per i vestiti, perché di solito in realtà ci sono tante decorazioni che sono verdi. Ci sono sostanzialmente tutte le cose nella vita, specialmente ai istoranti, ai pub, tub pub. I capelli, i vestiti, le sciarpe, tutte le cose ci sono, ovviamente ci sono i bracciali, ci sono le colane, ci sono tutte le cose verdi per questo giorno. E abbiamo i pad of gold, le pentole d'oro, e anche i leprechaun o il folletto forse, non so esattamente il nome, ma a quanto pare queste cose sono proprio, almeno queste cose come li conosciamo oggi, sono proprio americani. E qui nei Stati Uniti per questo giorno è una tradizione per le persone che bevano la birra verde. Questa cosa non esiste in Irlanda e per quanto ne so non esiste nelle altre parti del mondo. Comunque, per qualche ragione mettiamo il colorante verde nella birra e anche forse nell'altro cibo, nelle altre bevande, negli altri drink, specialmente i drink o i cocktail. E il cibo che di solito mangiamo è il corned beef e il cabbage, ovviamente io cavolo, o il corned beef che è un manso aceto forse. E questa cosa veramente è iniziata qui nei Stati Uniti, dai immigrati irlando-americani, a New York City nello specifico. E questa è un'altra cosa che è iniziata o che si è trasferita a Irlanda, in Irlanda. Quindi è molto interessante. E forse il simbolo, uno dei simboli più conosciuti per questo giorno è lo shamrak, o il trifoglio, o il quadrifoglio. Sì, con i leprechaun e i shamrak, questi sono i simboli più conosciuti o ufficiali di questo giorno qui nei Stati Uniti. E questo giorno è festeggiato sensibilmente, oh sì, letteralmente in tutte le città, quindi in Stati Uniti. Ovviamente ci sono le feste più grandi, ovviamente qui a New York e anche a Boston, a Chicago. Ma ci sono anche le tradizioni con queste città, per esempio a Chicago, loro tingono il fiume, verdi per un giorno, come potete vedere. E anche a Washington DC, a Casa Bianca, dove abita il nostro presidente, la Fontana Nord diventa verde, verde per il giorno. E qui a New York abbiamo un grande parata, come altre città, ma qui a New York questa parata è speciale perché è la parata più grande al mondo per questo giorno. è anche una delle parata più grande, più vecchia in generale. La prima parata è successa nel 1762, quindi è proprio, è davvero vecchia qui. E di solito ci sono 150.000 partecipanti, 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 alle persone che camminare, o march, nella parata. E di solito ci sono 2 milioni delle persone che attendono sulle strade per questa parata. E dovrei aggiungere che qui c'è un'altra tradizione, che se qualcuno non indossa verde, i vestiti verdi, poi quella persona, questa persona, dovresti pizzicare questa persona. Ma in modo affettoso, non per, non per il dolore, ma comunque. E per qualche ragione abbiamo anche le maiette che dice kiss me, Irish, baciami, sono irlandese, anche se non è vero. Ma in questo caso per me, io sono irlando-americano, un po'. Senzionalmente qui nei Stati Uniti questo giorno è ben festeggiato, con tantissimo bere dell'alcol. Io ho impassato durante i miei anni all'università, ho fatto abbastanza, ho festeggiato abbastanza per questo giorno. E decisamente è un giorno, qui gli americani ovviamente adorano a bere l'alcol e festeggiare, quindi qui nei Stati Uniti questo giorno essenzialmente è un'esclusa, o excuse, è una scusa per bere l'alcol e festeggiare. E questo è quanto per oggi, spero che questo video sia interessato e spero che voi abbiate imparato qualcosa di questa festività, di questo giorno qui nei Stati Uniti. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao, buon giorno di St. Patrick. Happy St. Patrick's Day!